Firenze Smart Rallentamenti per incidente tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie!